Era la notte tra il 12 e il 13 aprile 2023 quando Javad Disham uccise con 23 coltellate la compagna Sara Ruschi e la suocera con tre fendenti all'interno della loro abitazione di via Benedetto Varchi ad Arezzo davanti ai figli della coppia, all'epoca un ragazzo di 16 anni e una bambina di 2. Per il duplice omicidio il 37enne era stato condannato all'ergassolo dal tribunale di Arezzo. Adesso ad un anno di distanza dall'elitto la difesa dell'uomo ha presentato istanza d'appello come già annunciato a conclusione del processo di primo grado. Diciamo le argomentazioni giuridiche in punto di sussistenza dell'aggravante sono quelle che sono la questione di rimente di questo processo e che verranno coltivate fino in Cassazione. Secondo la difesa dell'uomo tre i motivi da considerare in corte d'assise d'appello a Firenze. Non ci sarebbe dunque l'aggravante della convivenza stabile del rapporto affettivo in atto. Javad e Sara si erano già lasciati, l'uomo sarebbe rimasto nell'abitazione di via Varchi in attesa di trovare una nuova soluzione. Secondo la difesa poi non è stato risposto l'accertamento psichiatrico sui disturbi manifestati dall'uomo per chiarire i dubbi esistenti. Il legale aveva già avanzato la richiesta di sottoporre il 37enne a perizia psichiatrica alla corte d'assise che però l'aveva rigettata. Il legale chiede infine che vengano concesse le attenuanti generiche non riconosciute dal tribunale di Arezzo che aveva inflitto la pena massima. Javad Disham adesso si trova in carcere a Prato dove sta scontando la pena.